ciao youtube rieccoci qui con una nuova puntata di capped per chi invece ci sta seguendo in live questa è una serata che prosegue con un altro gioco perché quello precedente è stato finito quindi l'abbiamo finito a metà a metà serata quindi ho ripiegato su questo perché quello prima era un horror e questo diciamo in un certo senso è anch'esso un horror e quindi leggiamo un po che abbiamo con noi pinky punky dai e c dai e c che teoricamente avrebbe dovuto leggere con la c romana che è un po più sbiascicata quindi sarebbe stato dovuto essere dai e c dai e c quindi salutiamo di nuovo tutti quanti per per correttezza di inizio video ciao magic player ciao dino pandino ciao franciccio e ovviamente dulcis in fondo ciao pinky punky uno di quelli che ti consiglio umana no un altro tipo di horror bell'horror mi sono mutato no in realtà non mi ero mutato è che ho cambiato tutto l'ambaradan della scena e l'ultima volta evidentemente era era mutato non lo so sì comunque ottimo il modo per diciamo attirare la mia attenzione è alert funziona qualcuno chiami un interprete stavo facendo che poi ho detto tante cose intelligentissime bellissime che adesso sono sono perse sono ma esce per sempre per nacchie su di te per questa gag ma non l'ho fatta apposta non è una gag voluta ok dai resettiamo aspetta lo resettiamo franciccio qui devo chiederti anzi anche a dino lo chiedo visto che la partita comunque sta proseguendo è lo stesso salvataggio che faccio le morti le le cose le resetto oppure proseguiamo con lo stesso contatore fino alla fine del mondo io prosegui io proseguirei con lo stesso arriva la dmail e dai dai teniamole mi piace come idea l'unica cosa è che devo fare spazio per per la terza cifra perché fra poco arriva la terza cifra ecco perfetto ok e io non so perché mi sto volendo così male stasera però vabbè ormai l'ho ormai l'ho detto e lo sto facendo e ovviamente non funziona il controller adesso perché questo gioco è talmente intelligente che se all'inizio tu lo avvi e non usi il controller il controller te lo giochi per tutta la durata della il controller non è possibile e il controller che controlla me esatto mille milla migliaia di morti vediamo a quante morti arriviamo fino alla fine non è bellissima questa cosa 39 per cento ma davvero ho fatto il 39 per cento in una serata sola vabbè ma sono vabbè ma vabbè sono proprio imba tanto abbassato il volume perché tanto qui è inutile che mi allora eravamo qui l'ultima volta grazie mille di no per l'incoraggiamento pernacchioso mamma mia vi spacco vi disintegro sono proprio fresco 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 freschissimo vieni qui tu magic player scusami se non ho fatto magic ma a questo punto ho preferito proseguire sul genere horror no anche perché magic ci voleva un po invece questo è un po più leggero abbi pazienza e ci vediamo ci vediamo sabato mamma mia sono carichissimo no ho sbagliato in soltamente carico che ho sbagliato ma no non mi ricordo qual è il tasto no il problema mio è che non mi ricordo no dai ragazzi non mi ricordo qual è il tasto su era la b era la b era la b ma che patetico sono patetico franciccio tu è vero che ti stavi rilassando con coso insomma eh invece adesso devi lavorare ti faccio lavorare oggi non è neanche apparso poverino vai concentrato eh vai ok eh ci sono attenzione eh con molta calma ti salto direttamente oh attenzione che c'è quel maledetto vai ok attenzione ecco qua eh mi ricordo che c'era un problema di schivare i colpi però però ho tre vite eh che non è male come cosa porca miseria ma hai detto ah ma c'è un mos qua ecco perché vedi dai kped è bellissimo e ne vale la pena assolutamente sì vedi vedi quello che dicevo l'altra volta l'altra volta ero stanchissimo grazie 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 molto molto gentili uh devo cambiare scusate devo cambiare il titolo della live perché sennò la gente si confonde eh ma che scherziamo aspettate aspettate devo cambiare il titolo della live eh eccoci qua eccoci qua cap head eh let's play questo no e mettiamo giocatore singolo ok scusate eh se no giustamente la gente dice ma che cacchio sta dicendo questo va bene poi dove andiamo eh che mi manca questo cos'è ma un farone d'egitto vai mi piace abbiamo già un boss qui eh cos'è oh dai bellissimo ok tornano indietro bellissimo no dai è sparito quando gli ho sparato cioè sei veramente cattivo eh scusami ma vabbè ma guarda che sono inventati no mi prende ma il bastone pure mi fa male ho solo la la lama rotante buongiorno oddio ma sono bellissimi oddio no no madonna sti satelliti qua sti penetri qua sono tremendi ma guardate lo sfondo quanto è bello ma questo gioco è di un'ispirazione incredibile sta succedendo qualcosa di bruttissimo vero? non lo sapevo guarda 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 aia nooo si buonasera ah stavo appena appena a metà ragazzi eh bene molto molto bene beh questo è abbastanza semplice quindi non spreco nulla andato poi qui abbiamo detto solo il lame quindi possiamo anche fare io pensavo tutto il bastone infatti mi sono impiccato per non farmi prendere dal bastone eh eh scusami eh poi questo mi sembrava abbastanza semplice però io una bombetta io la lancio ok facciamo così no perché questi pianeti non è che siano proprio fantastici eh ok ok vedi oh il problema adesso è quest'altro no sei infamissimo no 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 ma che cos'è perché perché sono morto non ho no 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 dai non ho capito perché sono morto non ho toccato un proiettile oddio questo era nuovo è bello perché cambia tra l'altro oh oh qua ci rilassiamo un po' sono random anche questi comunque eh non sono disposti come prima aio o carica miseria che hanno preso ok questa a questo punto io devo fare piano piano tanto vedo che i i pianeti sono evitabili perché fanno una curva vai quel paese fanno una curva larga e una stretta ma a posto ho appena detto sono evitabile eh ah non mi devo avvicinare ah c'era una specie di sparo secondario ma va quel paese sparo collaterale più che altro ma questo fa cose nuove ogni volta ma che cos'è ok 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 anche questi no questi cilindri fanno male se le tocchi eh ok ma va quel paese ma perché pensavo che era l'ultimo ok 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 ora che cosa mi spari è sempre le stesse cose giustamente ok vai piano piano dai che è facile questo ma perché perché vai così ma io mi faccio meno allontanarmi sì ok so come farlo mi allontano no 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 devo assolutamente imparare a fare quei pianeti perché sono talmente stupidi che mi sto veramente stupendo l'obiettivo mio dio aiuto aspetta che non posso leggervi eh e buonasera l'obiettivo della runa qual è? finire con meno di 250 morti la runa? quale runa? c'è un modo per evitarli sempre? ok vediamo ok mi sembra un ultimo mi prendeva sì ma vai giù e spacca questo grazie dai 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 ok quindi tu mi dici c'è un modo per evitarli sempre tipo tipo stare sempre giù? no lui gli spara quando gli pare vabbè lui l'ha arrabbiato stava correndo mmm sti pianeti mi stanno veramente sulle palle eh mh che cavolo ah runa no 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 lontanati io immagino che qua debba fare una cosa perchè sennò quel cavolo che ce la faccio run intesa come partita ma ogni tanto mi prende la dislessia quindi l'obiettivo della runa qual è? l'obiettivo della runa è finire il gioco per il momento beh ahihistes poi vedremo se in futuro mi metto a fare cose più più pro non lo so non credo boh se mi prende si ma per fare cose pro devo procedandomi bene tutto ci passo ci passo la vita qua non mi sembra il caso non lo so eh chissà ci sono stati dei giochi che mi hanno preso tantissimo da voler sbloccare per esempio tutti gli achievement come Geometry Wars il succitato B-Trip Runner Super Meat Boy ora sto un attimo zitto perché qua è un po' tragica la cosa non lo sapevo porca miseria che scemo ma ne vuoi morire? vuoi morire per favore? dai no mi ha ripreso ma dai ma non è possibile morire per quei pianetiti stupidi questo devo farlo fuori veramente presto perché quindi gli sparo la bomba e basta ciao muori per favore no eh è tostarello eh devo dire tostarello considerando anche che sto a metà neanche mi sa che devo usare più più bombette ma la bomba ma la bomba gli fa più male vero? sì però magari colpiscilo mi sa che gli fa abbastanza male mi confermi francescio che la bomba fa un pochino più male come danni? ovviamente perché devi colpirlo con un'angolazione un po' un po' sfortunata andiamo un po' a questo allora eh ma questo però ma guarda come ho ucciso no io non riesco a cosarli questi porca miseria non ci riesco mamma mia aspetta aspetta questo si fa molto facile con le bombe forse ho capito che idiota oddio sì sì dovrebbero fare decisamente più male va bene dai ci provo pratica dalle bombe scusate il trigger il trigger destro non serve a niente vero? aspetta il trigger destro serve a qualcosa? no eh io lo uso per cambiare le armi eh ma che scherziamo e c'ho l'indice completamente libero aspetta blocca cos'è blocca? ah blocca serve per vabbè ma che mi frega intanto non uso mai blocca quindi cambia arma eh facciamo right trigger eh ma che scherziamo su è fantastico così non devo neanche staccare ok allora a te mi sa che ho capito come farti mi metto qua ok infatti si è visto come come ho capito come farti wow ma qua il problema è quando comincia a sparare lui porca miseria ladra si buona no questo è difficile cavolo questo è veramente difficile mi sa che però sapete che quando sei piccolo sei troppo scattante per quel pezzo lì no no io quello non so farlo sei infamone però no i gattini sono molto meglio vai vai ciao maledetto tanto ti odio oh l'ho già ammazzato wow bello ma tu sei veramente una rottura di scatole quindi se mi permetti io farei così si è molto più semplice paradossalmente se vai più lento non lo so non so perché ma mi trovo meglio ok poi qual era questo oddio non l'ho mai fatto aiuto cacchio 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 che cavolo è no 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 ma che cos'è ma che vuol dire ero arrivato here's a real bi-class bell you're up no 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 Ma dai però Non colpire queste cose qui Forza Dash Grazie Dai ce la posso farcela No niente Io questi pianeti Vi giuro li odio Li odio Quanto li odio Quei pianeti Li odio Perché sono stupidi Tra l'altro Ma niente Oh sarà Che ne so Sarà un problema Della mia testa Madonna Questi sono tremendi Comunque Ma come faccio No ma che siete matti I scerulli Oh i gattini Dai i gattini Mi piacciono I gattini Sono teneri Carini Mi prendono Solo Bluie Ah ma sei un fametto Però eh Ma forse qui conviene Usare il piccoletto Sì 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 Ecco vedi Questo per esempio È un pezzo da piccoletto Vai 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 Questo è quello un po' No questo è sempre lui E poi c'è quello che devo usare La bomba Oppure me la tengo la bomba Vabbè Niente Io vi giuro Che non Non so perché Ma Vuoi morire Per favore Grazie Gentilissimo Io mi vorrei tenere La bomba Per quello finale Che faccio Però questo è un po' Stronzetto Dai provo No 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 Ma proprio no Dai dai Intanto ti sparo subito Oddio Io ho sparato troppo presto No Ok Ora qual è che spara Dio 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 Qual è Qual è Ok è lui No Si può capire Qual è che sta per sparare Non sarebbe meglio Una sola partita Magic contro Ormai mi sono in caponito Mi dispiace No Anche perché Ragazzi Non ho Non l'ho Non l'ho ancora avviato Magic Cioè Devo installare L'aggiornamento Cioè Stiamo qui Mezz'ora Per installare L'aggiornamento Ah ok Si apre l'occhio Perfetto No Avendolo fatto una volta sola Per il momento Non sapevo Se c'era qualche indizio Io Non lo so Questo è Questo è un po' Un problema Per me Dai è andato È andato Dai 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 Che ce la faccio Ok Dai eh Ok Quello è aperto Quindi è lui Bene Quello è lui E ora Dai 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 Mamma mia Ci sono sempre indizi Quanta saggitudine In te Franciscio Grazie Grazie Gente Grazie Ok Gigio Prodigio Vediamo un po' La lista Ne mancano Eh un po' Ne mancano Dai Tenzone al tendone No Tenzone al tendone L'ho fatto Ah qui manca un boss E un E un run and gun Giusto? Bene Questo l'ho fatto Ecco quel run and gun Dai facciamo il run and gun Ci saluti Alla prossima Che per me probabilmente Non è domani Ah mannaggia Speriamo Che magari riesci a passare Un po' più tardi Un salutone Grazie mille per La compagnia E grazie di tutto Ciao carissimo Ma se non ci siete Ragazzi io faccio Qualcos'altro Cos'è? Ma che siete matti? No Si ma No Ma sul serio Qui è Inversione di Gravità E come faccio? Eh ma non posso Scusa ma No aspetta 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 Ma qui come faccio Ragazzi Scusa C'è roba sia sotto Che sopra No Ah le papere Le devo sparare? Ah sono le macchine Quindi che non Ok Grazie 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 Aiuto 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 Oddio Bellissimo E va Potersi anche Vabbè ma sei stronzo Ah l'occhio? Il bacio Ma voi siete matti? Quasi sicuramente no E tu ci sei tardi? Non lo so Sentiamoci su discord E vediamo se Vale la pena Eh scusate Ma gli unici che ci sarebbero Sarebbero Due che già conoscono la storia? Non so Vabbè ma va a quel paese Scusami eh Ma quanto sei duro L'ha ammazzato L'ha ammazzato Ma vabbè ma cosa è successo? Ma cosa è successo vorrei capire E ha successo che sei morto Ecco che è successo E ha successo va 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 cambia subito gravità in che senso che devo salire devo scendere cioè dipende da dove sto capito va 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 ah tu intendi qua in questo questo qui sì sì vabbè qui ormai è fatta carità le macchine si alternano sì 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 ma questo l'avevo capito ormai il problema è dopo ma che cavolo ok oh calma che qua devo capire che succede ma tu spari quello c'è i cannoni che si muovono bellissimo aspetta un po' questa potrebbe far male a lei ah sì gli fa male oh ma quanto ci vuole ma dai ma ci vuole troppo quest'arma ma che cacchio di arma è le monete se ci riesco le prendo ma Grazie a tutti. Ok, attenzione a questo maledetto. Grazie a tutti. Ma è un delirio, ragazzi, qua. Ma dai, ma come faccio? Ma dai. Mamma mia. Sì, sì. No, no, Soma l'ho finito. Buonasera, Necrosis. Ciao, caro. No, Soma l'abbiamo finito e quindi ho pensato di continuare con un altro horror. Ma che cosa faccio? Dai che tra poco arriva la terza cifra. Ottimo, mi fa morire il rumore che fa. Il verso che fa quando gli fai male. Ok. Ma dai, ma sei un scemo. Ma sono scemo. Cioè, ho pure aspettato, capito? Bravo, perfetto. Mamma mia. Sì, sì, le morti sono totali. Totali in tutta... La mia vita di cappetta. No, non ho neanche ancora installato la patch, figurati. Oddio. Ho sbagliato. Non c'è solo l'inversione di gravità in questo gioco ovunque. Mortaccio. Ma perché? Sì, questo è veramente, veramente tosto. E non l'hai visto dopo? Ok, ma qua, un calmo per favore. Cioè, non... Ma guarda quel coglione, maledetto. È bello che ho appena finito di dire con calma e sono corso avanti. Vai, vai. Continua così. Perfetto. Vai, grandissime. Vai così. Grande. I tromboni? Chi sono i tromboni? Ma quelli che sparano le palle? Ma ti possono uccidere? Ma ci ho provato a sparargli prima. Non succede niente. Questo gioco istica la... Sì, tantissimo. Soprattutto dopo una giornata faticosa. Ma davvero sì? No, non si uccidono questi. Ah, ok. Ma quindi che intendevi per i tromboni? No, 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 no. Non mi ci sto proprio dedicando. Ah, ok. Ah, si possono uccidere quelli perché spesso del genere di mostri non mi sembrava che si potessero uccidere prima. tipo i picchi per esempio ok calma si lo so lo so sono nel pallone abbi pazienza pensavo intendessi le stelle no dai però eh però sono tosti eh no come faccio sono tostissimi come li ammazzo dai ciccio non inferire stanco vorrei vedere tu a questo posto un pochino non capisco come fosse da tornare indietro a uccidere il trombone prima che mi spara quel cacchio di coso è un pochino non capisco Dai però, ma che cosa? Ah, aspetta, 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 ho capito, non posso uccidere così, complimenti, complimenti proprio, tanti tanti complimenti, la schitta che ti spara è molto veloce, sì, a evitarla no infatti, però devo stare sopra, devo stare sopra, sì, o comunque c'è un tempo da aspettare prima di che lui faccia quello sparo successivo, quindi forse riesco, eh ma muovo piano piano, è normale che qua bisogna avanzare per gradi, intanto non devo farmi prendere da queste cose qua perché è disdicevole proprio, Ok No, sei uno stronzo, guarda, ma prima non c'erano questi, perché adesso ci stanno? Ma che cos'ha? Un po' di rispetto Allora, trombone Aspetto Ma sei uno stronzo? No, no ragazzi, non sto nel pallone completo Cioè, gli sono andato addosso, gli sono andato addosso Immaginati se dovessi finire il livello, sì, ma che sei mai matti Un paro classico? Però questo fa più male No, sai che questo mi torna utile quando ci stanno quei missiletti Perché gli vanno anche dietro Cioè, mi fa comodo che tornino dietro Qui, qui ci sono sti missiletti che Ogni tanto mi fa comodo che tornino indietro i colpi miei No, vabbè, cioè Sto prendendo tutti Tutti, tutti, tutti E eccoci qua, caro trombone No, ti faccio proprio con la calma La calma dei vulcaniani, proprio Ecco, a quel paese A te, a chi ti ha inventato Eh, no Ci arrivo? No No, mamma mia No, proprio adesso Evitando il trombone Eh, credo che il trombone non si possa evitare Perché è troppo grande Non riuscirei a saltarlo Mi sa Eh, no C'è ragione Sì, sì, sì Devo sparare al normale Devo metterlo Per i tromboni Per forza Sì, sì Questo è vero Here goes Alla prossima Alla prossima vedi che comunque ci metto molto di più perché con lo sparo a boomerang è più forte allora non prendere questi perché sono i più stupidi di tutti con calma con calma molta calma bravissimo piano molto molto piano bravo complimenti l'hai preso no dai e poi lo alza pure alla fine è proprio un fame dentro io sono stupidissimo you're up no mi ha preso l'ultimo complimenti no però ste cose veramente vi giuro veramente vi giuro no ma speedrun qui? no ti prego cioè muoio ma potrei usare gli sparifors forti per i tromboni? eh volevo fare una cosa figa non ce l'ho fatto ma proprio schifosissimo eh sì 100 siamo a 100 mamma mia sì buonasera ma è distratto questa non varrebbe eh mmmm minchia la folla quanto dura sì una cifra voglio riprovare a fare quella cosa bellissima che ho provato a fare prima eh? no ma ha preso comunque l'altro però è stato divertente festiva nooo nooo no che poi tra l'altro sti questi cosi qua scorrono prima sono caduto dal dal bordo uno scemino l'ho lisciato che poi se non era per la musica snervante era pure fattibile rifare da capo il livello molte volte sempre la stessa musica se dovessi essere al tuo posto direi dare di matto si sono molto non so c'ho una predisposizione genetica per per i giochi come questo o come insomma Dark Souls e compagnia non lo so non è masochismo è proprio mettermi alla prova a livello di a livello di sto parlando e non ci sto capendo niente a livello proprio di disciplina ecco un po' come la disciplina e la forza di contatto che ci vogliono per mantenere una dieta no? no stavolta per favore per favore vorrei entrare qui dentro con tre vite grazie no ma molto gentile eh grazie questo livello è una copia sputterata della nave di Super Mario Bros 3 la nave è uguale con i cannoni che sparano ruoteando così ok sarà una specie di non so di come si dice di tributo se solo potessi arrivare ai tromboni senza morire sarebbe simpatico dai però su quanto li odio quei cosi comunque eh diciamo nella verità posso grazie ho due vite dai due vite due vite sono buone eh vuoi morire grazie ok è andato dai attenzione qui devi prendere ok vai attenzione ma questo come cacchio non ammazzo ma dai ma ma perché devo morire per quelle stupitaggini stupitaggini cosa? se i colpi che torna indietro gli spari in faccia fino al momento in cui prende respiro perché hai tempo per toglierti vero il rosa lo posso parare no il problema con i tromboni è che non ho il tempo poi di di uscire capito? non ho il tempo di andare davanti e e tornare indietro quindi preferisco la tattica calma anche libri come questo pezzo mi porti sempre via almeno una vita qui da qui in poi è veramente maledetto porca miseria ladra non 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 è non Grazie a tutti. Ho saltato troppo presto. No, no, mi sono scordato. Io l'ho scordato. No, no, mi sono scordato. E' proprio a livello di design di tutti questi elementi, di questi mostri. E' veramente, veramente fico. Ok, attento qui, per favore, per favore, attento qui. Bravo, non bravo. Veramente una schifezza, direi. Ma che schifo. Mamma mia. E non stavo per cadere? Qui è dove sono caduto l'ultima volta, no? Cioè, no, la volta quella dove sono arrivato qui. Ok. Un'altra volta questo? Ma che cavolo? Ma cos'era? Ma no, però, non è giusto. Io non le so, queste cose. Io mi ricordo che sto livello lo facevo con i colpi a ricerca. I colpi a ricerca? Beh, potrebbe essere una bella idea. Vabbè, comunque ho capito che alla fine lui ti avverte che sta per uscire quella slinguazzata, diciamo. Vedi, poi questo è uno dei lati, diciamo, negativi, tra virgolette, di questo gioco. Ma perché hai fatto sta cazzata? Ovvero che tu ci metti 30 run per superare tutti i vari pezzi e poi alla fine ti mettono una meccanica nuova, chiaramente, che non conosci e ti frega. E quindi ricominci. Dove esce adesso, per esempio? Mi sono distratto. Dove esce? Ah, perfetto. Sto un po' nel pallone, eh? Ma che c'ho sonno. Almeno in questo modo sbloccherà l'achievement solo per folli. Però ti avverti tre secondi prima con... Uh, oh. Sì, 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 è vero, è vero. Eh, ma non lo conoscevo. Tu dici... Oh, che palle, però. Se c'è una freccia... Rossa, evidentemente, sa per uscire qualcosa. Sì, è vero. Dovevo aspettarmelo. Oh, niente, io... Diciamo, il mio pezzo tremendo è questo. Non riesco a farlo senza perdere almeno una vita. Il problema è che non posso neanche farlo con calmo, perché poi arrivano tanti di quei maledetti cosi lì. Questi. Questi. Porca troia, questi. No, no, dai, non... No, questo pezzo è veramente, veramente difficile. Vorrei attivare il song request in questo caso, così almeno la musica la scegliete voi, però poi YouTube mi fa problemi, purtroppo. Ecco, è qua che mi frega. Porca miseria! Vabbè, dai, almeno... Sono due. Due vanno meglio. Ciao, trombone. Ci rivediamo. Bravo. Complimenti, Dash. Bravo. Grandioso proprio. Proprio le basi, proprio. Proprio le basi, proprio. Ok, attenzione qua. Ok. Allora. È sotto, quindi chi se ne frega. Ma no, dai, morire sulle labbra, no. Ti prego. Vi saluto, ragazzi, è stato un piacere, vado a farmi un paio di partite rapide, prima di fare... Un saluto anche a te. È stato un piacere anche per me. Ci vediamo, se vuoi, su Discord, altrimenti direttamente per il torneo o domani, se passi. Buonanotte e grazie ancora della compagnia. Ciao, caro. Sì, no, anch'io, ragazzi. Guarda, in caso... In caso... Faccio l'ultimo anch'io, dai. Sì, dai. Una delle prossime sarà l'ultimo. Vai. Ok. No, devo riuscire a fare questo pezzo senza morire, porca miseria. È qui che mi devo sbrigare, perché adesso lui fa così. Vai. Attenzione. Vai. Con calma. Vai. Ce l'ho fatta. Ok. Ce l'ho fatta senza morire. Sei molto attento. Grazie. Grazie, grazie. Molto attento. Sei un deficiente. Sei un... Che poi quei cosi che girano qui intorno, bisogna stare attenti. Quelli. Quelli là. Perché ti vengono addosso. E se non li ammazzi, quando lui spara l'onomatopea, non hai spazio per ucciderli, quelli. E ti vengono addosso ad ammazzare. Cioè, è studiato veramente da maledetti, sto pezzo. Ok. Ok. Eccoci qui. Mi ha sparato. Adesso sto attento. Allora, va giù. Quindi devo stare attento alle bocche. Bocche, bocche, bocche. Vai. Vai. È giù da qua. È giù di me. Da me. L'ho ammazzato. E ora come faccio? Oddio, come faccio ragazzi a... A entrare? Così? Mamma mia. Dai, però, mettilo di Discord. Su, siamo tutti lì. Tanto è un canale testuale. Non è che devi per forza parlare. Ok, un attimo di... Un attimo di... Di relax. Abbiate pazienza. Datemi un attimo di relax. Grazie. Ok. Dicevo. Vieni su Discord. Dai, installalo. Fatti un account e via. Su. No? Non vuoi? Vai nel quartetto e ti ascolti la loro musica. Però poi quando esco dal gioco non si sente, purtroppo. Quindi adesso... Faccio un attimo... Faccio un attimo... Un po' di decompressione. Ok. Ho raggiunto il massimo 60... Eh, lo sai anch'io, ma... Ma già due o tre volte è successo. Anzi, no, è pure di più, mi sa. Cos'è l'isola Calamaio? Ah, è l'isola Calamaio e quell'altra, ok. Tu chi sei? Ormai lo faccio domani. Sì, sì, domani, domani, tranquillo. Vai, vai. Tranquillo. No, lo dico per te perché poi lì ci coordiniamo, ci chiacchieriamo. Oddio, qua c'è un'altra. Aspetta, 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 non sono pronto. Volevo intanto cercare un negozio. Shop. Oh, ecco, non l'ho chiamato. Invece quassù cos'è? Avete parlato con Quadratus, l'essere acqua che abita sull'isola? Ben pochi possono freggiarsi di tale impresa. Ok. E c'è un mausoleo che è quella cosa dei fantasmi, giusto? Ok, vediamo un attimo lo shop. Allora, cacciatore non mi piace. Cuore non mi piace. Favilla, ex barriera radicale. Ok. Non ha fuoco rapido, mantieni e mira con cura per danni maggiori. Ah, questo è quello che stai fermo e spara. Eh. Ma questo qua, scusami, è una cosa fissa. Non subisci danno durante lo scatto. Eh, ma questa è bellissima, scusami, eh. La tua prima parata è automatica. Ti basta saltare. È bellissimo. Volevo anche questo. E questo. La super barra si riempie di continuo, al di là degli aumenti che attieni. Bello. Bello il caffè. Faccio una partita dopo l'altra dicendomi sempre questa è l'ultima. Un amuleto? Ah, quindi si equipaggia uno. Ok. Auguri, franciccio! Auguri! Tanti auguri, franciccio! Tanti auguri, dai. Spammate gli auguri per franciccio. Un piccolo regalino, figurati. Tanti auguri! Vediamo se c'ho questa. Questa è perfetta. Ma che scherzi. Ti dovrei pagare io, in realtà. Ah, questo è, direi che è un emoticon perfetto, perché c'entra anche col Kraken. Ma l'Adriade c'è? L'Adriade non c'è, è andata via. Mi ha lasciato da solo. 26 fischioni, franciccio? Eh, sì. Grande! Vediamo se c'ho un... Come regalo, facciamolo arrivare in semifinale. Eh, vediamo. No, no. Mi dispiace. Se il compilano fosse stato proprio sabato, allora... Non lo so, vediamo. Ah, lui lo vince. Senza regali, sì, infatti. Eh, in realtà, franciccio, fra di noi, è quello che mi sa che è arrivato... È l'unico che è arrivato al Mythic. Eh, in... Sul canale, vero? Sì, mi sa solo tu. Comunque, grazie mille per il follow, Edo0205. Benvenuto, grazie mille. Ciao, angolo del videogame. Buonasera. Ciccio sbacca tutto. Sì, sì, è arrivato. È arrivato lì. Ok, quindi abbiamo fatto questa cosa. E adesso, in chiusura di serata, vorrevo fare un attimo il mausoleo. Che mi sembra abbastanza tranquillo. No, questo mese no, ma l'hai fatto, mi sa, in quello prima, no? Oh, non ho attivato le cose bellissime che avevo, vabbè. Ricordatemelo dopo. Abbiamo questo, scusami. Oh mio Dio, quello è nuovo. Vabbè, però ci mette tre ore. Che bello, state facendo nuove amicizie me- 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 gicose. Visccio. Nooo. Ma che sfiga. No, 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 no. Poi, aspetta, aspetta, che dici? Puoi fare più parri in un salto? Ma stai scherzando? No. Ma va, quel paese. No, non ho capito, in che senso? Più parri in un salto. Cioè, se ci sono due mosti uno accanto all'altro? No. Ma. Fa. Ma. No. No. Ni. Ma. Ma. Mamma mia. Mamma mia. ha più perri prima di toccare terra ah ok in questo senso perfetto quindi se ci sono di più dice faccio così e via ok chiaro tutto molto chiaro prima di vedere il nick che devo inserire sul profilo sono quasi certo che tu abbia dato il nome in game ok vabbè voi vi state organizzando intanto eh così è più semplice in effetti ecco qua yes di solito guardo le live solo se posso tranne qualche beneficio di solito guardavo solo le live inerenti della compravendita su Ultimate Team ma su questo canale si sta davvero bene ma grazie guarda mi fa davvero piacere la gente è associvole soprattutto non sono dei bambini tutte persone serie molto sì sì assolutamente qui trovate solo persone diciamo adulte o semi adulte insomma ci prenderemo sto cacchio di Twitch con darci alla guida di tutti noi ma sì scusami darci infatti sto usando qui per dopo altrimenti non so ma figurati tranquillo va benissimo è la super più inutile e più difficile da usare sapevo che il curiosano qui attorno avessi trovato una cosetta speciale non pensavo di cadere ancora in trappola grazie di avermi salvata di nuovo prendete questa mossa super magica e verrà di trovarvene un'altra ah è la più stupida e la più difficile da usare vediamo un attacco devastante questo è ok attraversa il piano astrale per diventare brevemente immune al danno ah ah beh questa è bella però eh la provenienza del nome Triade no la Triade è un diciamo un soprannome che abbiamo dato a a PinkyPunky perché sta dietro dietro al pannello siccome nel pannello è una foresta allora abbiamo fatto diciamo ho sempre giocato su questa cosa e lei era dietro dentro la foresta dentro la foresta allora dentro la foresta c'è una Triade e quindi è diventata la Triade quella dopo inutile beh questa mi sembra buona certo che però però preferisco sempre prima cioè preferisco sempre un qualcosa che faccia danni Amuleto non subisci danni durante lo scatto durante lo scatto quindi per terra perché quando sono aereo non scatto in realtà zuccherino la tua prima parola io direi questa quindi mi manca praticamente un boss e poi ho fatto molto bene in alcuni casi è buono sì infatti poi dipende anche dal il dash sì il dash e va bene mi manca un boss quindi quale sarebbe il boss che mi manca? questo? sì penso sia questo sì è questo perfetto manca questo ok la prossima volta allora sappiamo cosa fare torno al titolo vai ragazzetti allora io vi ringrazio tanto per la serata è stata davvero divertente un po' diciamo smadonnante verso la fine come ben potete immaginare però è stato bello grazie a tutti grazie mille anche ai vari follow e un grosso augurio ancora a franciccio anche da parte della triade che si è affacciata adesso ma sta di là quindi non può scrivere fisicamente al pc però ti fa tanti auguri e buonanotte magic player ci vediamo su discord noi ci vediamo forse a questo punto domani sera per zero escape adesso ci mettiamo un attimo d'accordo su su discord domani non ora perché non so a questo punto io quasi quasi la rimanderei perché due delle tre persone che non conoscono il gioco non ci sono non lo so poi vediamo e basta quindi niente ci vediamo domani vabbè per qualcosa ci vediamo domani forse oppure magari mi riposo forse potrebbe anche essere che mi riposo dovete mettervi d'accordo ah ma guarda che voi potete continuare tranquillamente a scrivere sulla chat non c'è nessun problema non è necessario che io sia in live voi potete scrivervi tranquillamente tranquilli va bene ragazzi ancora grazie mille buonanotte ancora auguri a franciccio anche da parte della triade e vediamo se c'è Tony G così visto che parlate di magic vi lascio con Tony G così avete un sottofondo di magic e parlate tra di voi qui in chat va bene quindi niente un salutone facciamo il ride a Tony e e ci vediamo forse domani e grazie ancora a tutti vai buonanotte grazie sì sono abbastanza soddisfatto da queste ultime cose di su cuphead ciao ragazzi buonanotte buonasera benvenuti ragazzi boss grazie a tutti grazie a tutti